Maria per recarsi da Nazareth alla regione montuosa della Giudea doveva affrontare un lungo viaggio si impegnavano circa tre giorni di carovana come lo fece Maria da sola o con Giuseppe facilmente non con Giuseppe e certamente in carovana insieme ad altri pellegrini ad altri viandanti attraversare da soli era umanamente impossibile e quindi fa questo cammino pesante fastidioso pericoloso e arriva alla casa di Zaccaria e saluta Elisabetta qui nascono già le prime osservazioni perché è inspiegabile questo comportamento di Maria che entra nella casa di Zaccaria cioè se contro la legge ebraica il capo famiglia è Zaccaria a cui vanno tutte le prerogative di rispetto di attenzione e invece Maria entra nella casa di Zaccaria e le attenzioni li dà a Elisabetta forse perché era anziana forse perché si trovava in una situazione di attesa e anche perché lei si era recata lì proprio per dare una manna di aiuto a questa donna anziana in un momento così critico della sua vita non sappiamo varie sono le interpretazioni una cosa è certa il Vangelo dice appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria il bambino le sussultò in crimpo quindi la presenza di Maria portando in seno il figlio di Dio porta la gioia porta la salvezza questo è importante e quindi Zaccaria che soffriva l'umilazione di essere diventato muto perché non aveva creduto nella parola dell'angelo gioisce perché ha sentito che la fanciulla Maria porta in sé il Redentore d'orinnanzi non sarà più con le pietre col cemento con gli architetti che si edificherà la dimora di Dio su questa terra ma con la fede con la carità con la dedizione con l'aiuto verso gli altri col vivere il Vangelo Cristo è in mezzo a noi possiamo rivedere questo mistero giacché anche noi in Maria nella comunione eucaristica possiamo vedere che lei ci dona il suo figlio nell'eucaristia nell'eucaristia c'è Gesù e noi ci avviciniamo all'altare e più che i sacerdote possiamo immaginare che è Maria che prende quell'ostia che prende Gesù e ce lo dà e noi lo manciamo e Gesù viene dentro di noi e Gesù vive dentro di noi e vive con noi collabora con noi nel fare un mondo migliore costruire un mondo migliore costruire il monte della pace portare la serenità alla gioia in chi sta bene e che magari ha un giorno di difficoltà anche questo ma portare la gioia specialmente a chi vive in un carcere perché è stato un delinquente perché è stato un uccisore e sta lì che piange per lo sbaglio che ha fatto Maria ci consegna il figlio il figlio suo perché noi portatore di Cristo perché anche noi ricevendo l'equaristia dentro di noi la comunione dentro di noi portiamo Cristo dentro di noi perché anche noi siamo portatori di Cristo e lo portiamo nel carcere lo portiamo nell'ospedale lo portiamo nei posti di dolore perché anche noi siamo figli di Maria fratelli di Gesù e quindi portatori di Cristo nel mondo Grazie a tutti